Erano anni che attendevi la firma sul contratto del Campobasso, è arrivata nella mattinata di ieri, sei contento immagino? Sì, sono contentissimo, è stata una cosa lunga a livello di anni prima che approdassi qui a Campobasso, però finalmente è arrivata e credo con la società migliore negli ultimi tempi, quindi posso essere soddisfattissimo. Con la società migliore perché fatta da Campobassani, poi una dirigenza che tu conosci molto bene avendola avuta anche a Trivento. Sì, diciamo che con loro ho già lavorato, insieme a questo gruppo di imprenditori, insomma c'è un entourage credo di altri imprenditori Campobassani, quindi è un bel ambiente. Alla vigilia dei lavori che scatteranno domattina in quel di Campitello Matese possiamo fare un attimino il punto della situazione sul mercato del Campobasso. Sono arrivati i vari marinucci, Todino, Di Gennaro, Miani. Ecco Miani, questo è un acquisto che fa fare il salto di qualità, lo chiedo a te perché chi meglio di te lo può sapere, sei stato compagno di squadra a Termoli con lui. Sì, sicuramente è stato il tassello che ha completato quello che era il reparto offensivo perché insieme a Di Gennaro, Todino, Lazzarini, Vitelli, si va ad aggiungere un giocatore che dà la garanzia, che almeno ha dimostrato con i numeri, che sono quelli che contano nel calcio, che fa fare il salto di qualità di una squadra. Quindi contento di giocare un altro anno con lui e avere questa garanzia. Presumibile il Campobasso inserito nel girone abruzzese marchigiano, anche qui per te non ci sono grosse novità. Che girone è questo? Sicuramente è un girone dove prevale il gioco del calcio, abbinato a un buon agonismo. Però si stanno allestendo delle buone squadre, alla fine chi tarda a partire oppure chi è partito prima, tipo Matelica, faranno tutte le buone squadre e saranno difficili tutti i campi. Calcoliamo che c'è San Benedettese, che ha fatto degli ottimi acquisti, c'è il San Nicolò che è una società seria, c'è la Maceratese che ogni anno si ripete e che ha alle spalle una società seria. Staremo a vedere, comunque sarà un bellissimo campionato. Farina ha proclamato di voler adottare una difesa a tre, sei adatto a questo tipo di sistema? Sì, voglio dire, negli ultimi anni ho giocato sempre con una difesa a tre, poi con lui anche qualche partita a Trivento facemmo la difesa a tre e andò molto bene, quindi se decide di fare questa difesa saremo pronti per interpretarla al meglio e al massimo. Un'ultima battuta, si dicevano i latini che nessuno è profeta in patria, tu cosa dici? Speriamo di smentire i latini anche perché sarebbe per me una cosa felice, anche perché sono approdato qui e spero di rimanerci.